Carlo come sta? No bene grazie a Dio dopo sette mesi sto bene è andata bene Venezuela sono brave persone Lei come si è ritrovato in Venezuela al momento del lockdown? Niente io sono partito qui dall'Italia che stava tutto bene solo in Milano che stava fatto un po' di focolaio in Europa in Europa non si sentiva ancora niente in America Latina completamente zero quindi sono arrivato lì in Venezuela il 9 marzo esattamente il 10 marzo stavo in Venezuela e dopo due o tre giorni è successo in Europa un casino l'Europa iniziava a fare i primi focolari dappertutto hanno chiuso automaticamente i voli dall'Europa verso l'America Latina Lei inizialmente quanto tempo doveva rimanere in Venezuela? Un mese 30 giorni io sono arrivato a Caracas sono stato due giorni da Caracas e poi sono andato lì a Porto Ordaz è un paese quasi diciamo i confini una città i confini con il Brasile Ok e lei come si è arrangiato? Come ha vissuto in quei mesi? Allora grazie a Dio ho trovato una famiglia buona diciamo che la mia ragazza che io sono andata lì per la mia ragazza che la voglio bene Angelina la saluto e mi hanno soltato a casa diciamo loro per sette mesi mio zio che mi ha aiutato grazie a Dio mi dava quasi 300 euro mensuali e me la soccavata perché se non c'era mio zio e la Caffè Moreno Gio Fernando lo ringrazio stavo diciamo una situazione brutta in Venezuela e lei in quei mesi quante telefonate aveva fatto con le ambasciate ci racconti un po' tutti i tentativi che ha fatto per poter rientrare io prima ho chiamato il consolato di Porto Ordaz io sono 5-6 anni che vado in Venezuela che voglio bene la mia ragazza purtroppo non posso farla scendere ancora perché non ho un lavoro per farla scendere quindi non posso metterla in pericolo quando va in Italia se io non ho un lavoro capito meno stabile automaticamente non l'ho potuta portare e vado io ogni anno solo un anno avevo fatto solo andata nel 97 ma perché perché non sapevo quanto tempo restare e mi sono trovato poi il biglietto quando sono dopo un mese che volevo fare il ritorno costava un sacco di soldi non avevo diciamo la disponibilità e il consolato mi ha aiutato adesso che è successo del fatto del virus però io ho fatto se mi ha dato il ritorno dopo sì non ho potuto si chiama dovevo chiedere un'altra volta un piacere al consolato però qui non è colpa mia del virus perché il virus mi ha bloccato io il ritorno ce l'avevo automaticamente però loro già mi avevano fatto un prestito per fortuna l'ambasciatore dopo tanti mesi che io chiedevo l'aiuto signor Nicola che ringrazio davvero che poi sono partito insieme a lui volendo l'ambasciatore proprio lui mi ha aiutato proprio ha detto Carlo guarda ti aiutiamo con un altro prestito per farti ritornare il momento più difficile di tutti questi mesi qual è stato? diciamo verso i tre mesi tre o quattro mesi che non vedevo risposta dell'ambasciata del consolato dicevo aspetta ripetere il tuo turno tranquillo Carlo però tu sai che avevo paura che già il prestito avevo fatto quindi non avevo risposte immediate diciamo dicevo aspetta partirai il prossimo mese forse partirai ho avuto un po' paura io capivo che la situazione che non si apriva l'aeroporto non apriva quindi mi sono sentito abilito dai tre ai cinque mesi dopo ho sentito parlare proprio con il signor Nicola dell'ambasciata che mi ha chiamato è stato bravo ho iniziato a più a calmarmi e ho aspettato il mio momento che sono partito no ho apprezzato devo dire la bontà della famiglia di Angelina la mia ragazza che stava mi ha aiutato tanto ho apprezzato la bontà di quelle persone buone che stavano in espera che veramente mi hanno aiutato tanto ha qualche consiglio per altre persone che dovessero trovarsi in questa situazione sua la prima cosa è stare calmi aspettare il turno dell'ambasciata che l'ambasciata se tu hai diritto allora ripeto se tu veramente hai il diritto a ritornare l'ambasciata ti fa tornare arriverà il tuo turno capito dopo la fine comunque ti fanno partire qual è stata la prima cosa che hai fatto tornato a Napoli la prima cosa vabbè sono andato in albergo tu lo sai mi hanno fatto il tabone a Capodichino per educazione per non rientrare a casa ho aspettato il tabone che è uscito negativo ho fatto pure l'analisi di sangue pure è uscito negativo grazie a Dio sono stato in hotel poi sono andato ai miei nemici una pasticceria a mangiare dolci una pizza cose classiche piano piano sto tornando alla normalità alla vita alla vita di sempre diciamo è bello mangiare una pizza vabbè normale mi sentivo un poco perso dopo un po' di mesi capito il film diciamo certe volte sarà il finale io non sopevo il finale capito certo peggio di un film grazie a Dio poi il finale è stato bene grazie a Dio grazie a Dio